Signori ragazzi e appassionieri dello sport ben ritrovati su Mollerino Sport Channel Oggi siamo qui per il post partita dei mondiali under 20 Polonia 2019 L'Italia batte la squadra di casa per 1-0 e passa dritta dritta ai quarti di finale Prima di iniziare il post partita vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, di iscrivervi Di non perdervi nessun video su tutti gli sport ragazzi, abbiamo di tutto Specialmente il mercato per ora, occhio a non perdervi gli importanti sviluppi E iniziamo a parlare della partita perché ragazzi allora l'Italia che affronta la squadra di casa L'Italia è passata da prima, la Polonia si è qualificata come migliore terza o come seconda migliore terza Adesso non ricordo bene I padroni di casa partono bene con un'occasione e palla, tiro raso terra fuori di poco Ma l'Italia fa vedere che ha voglia, comincia a creare occasioni e conquista un rigore per fallo di mano Netto, netto da parte del difensore polacco Dal dischetto si presenta Pinamonti che con un cucchiaio preciso, perfetto Sigla l'1-0 per l'Italia che adesso ha un compito Quello di difendere e cercare di chiudere la partita quando possibile Che succede però? Che la Polonia è spinta dai propri tifosi La Polonia ha occasioni Nel primo tempo si è vista comunque più l'Italia Ma dal secondo tempo quando il cronometro ha cominciato ad essere in favore degli azzurri La Polonia si è accampata nella metà campo dell'Italia Ha cominciato a sfornare occasioni Ma protagonista assoluto della partita è stato Blizzari che ragazzi ha fatto di quelle parate Veramente incredibili Ha tolto un pallone dal 7 Sì ok il tiro era dalla distanza e sul primo palo Ma è riuscito comunque a fare una parata in tuffo bellissima Ma la parata a mio parere migliore è stata quella Su un tiro a giro da parte del giocatore polacco Deviazione di testa dell'altro attaccante praticamente A due metri da Blizzari si e no Che comunque riesce a prenderla Non si sa in quale modo La deviazione magari non era proprio enorme Però è una deviazione a due metri Ma è riuscito a prenderla ragazzi Blizzari è protagonista assoluto È riuscito a tenere a galla un'Italia Che si è ritrovata costretta a difendere Per tutto il secondo tempo Decisamente di più Le occasioni per la Polonia Che doveva trovare il pareggio Spinta dai propri tifosi Ma non è riuscita L'Italia ha difeso Beh Bene Qualche occasione l'ha concessa Specialmente negli ultimi minuti Qualche calcio di munizione di troppo In zona d'attacco per la Polonia Ma ragazzi Vuoi le grandi parade di Blizzari Vuoi la Polonia che non è riuscita a concretizzare Il rigore di Pinamonti è bastato Pinamonti che tra l'altro Si è divorato un'occasione in seguito A tu per tu col portiere Ha riprovato il cucchiaio Ma questa volta l'ha praticamente masticato E è uscito un passaggio al portiere Ragazzi L'Italia così è ai quarti E affronterà se non sbaglio Attenzione La vinciterice Dell'ottavo di finale Terrà Argentina E Mali Che si svolgerà martedì Alle 20 e 30 Quindi Se proprio Vi siete appassionati Non perdetevi neanche La partita delle possibili avversarie Dell'Italia Che dire Avevamo 8 diffidati Fortunatamente siamo riusciti ad evitare Di ritrovarci in mezza squadra In vista dei quarti E che dire Oltre questo ragazzi Dobbiamo crederci I ragazzi finora ci hanno creduto E devono continuare Perché l'Italia può arrivare fino in fondo Io vi saluto Sperando Di commentarvi in positivo Anche il post partita dei quarti Ci sentiamo a un prossimo video Ciao